Buon pomeriggio, Iosefi. Sono tornato a Macerata ed ho intenzione di farti tremare la cosinna tutti i giorni. Curiosi ritrovamenti qui sul pianeta Sa. Ci sono tutti i pentiti della mafia che altrimenti avrebbero testimoniato contro Berlusconi. Veniamo quindi a sapere che il pianeta Sa è stato creato appositamente per far sparire tutti coloro i quali avrebbero potuto dar fastidio al Papa. Ci vediamo nei prossimi videomessaggi.